Lettura della civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, a cura di Andrea Zorzi, edito da Firenze University Press. Disponibile per l'acquisto o il download gratuito in formato digitale al link in descrizione. Capitolo primo. Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale, di Paolo Grossi. Per un rinnovato e più intenso colloquio fra medievisti e storici del diritto. Debo confessare che ho tentato ripetutamente di convincere gli amici Cherubini e Pinto ad esistere dall'invito affettuoso per una mia presenza in questo convegno. Poca stima degli invitati? Poca considerazione dell'iniziativa pistoiese? È vero esattamente il contrario. Le ragioni stavano unicamente nei troppi impegni didattici e scientifici assunti per questa primavera e nella difficoltà da parte mia di ritagliare quel disteso tempo necessario per pensare, progettare e disegnare una relazione introduttiva non troppo impari alla qualità dell'organizzazione congressuale. Aggiungo però volentieri una seconda confessione, che è presente ora in mezzo a voi quale relatore? Sono felice di esserlo per un motivo fondamentale, sia l'invito insistente degli amici medievalisti, sia l'onorevole spazio inaugurale concesso dai coordinatori e costituiscono, infatti ai miei occhi, la consolante conferma che non solo non va alcuna diffidenza verso il diritto, ma che si reputa indispensabile un approccio approfondito con la dimensione giuridica per poter arrivare alla piena comprensione della civiltà medievale nella compiutezza del suo messaggio, che, conseguentemente, il dialogo con lo storico del diritto viene considerato proficuo, ma, si intende, è proficuo per ambole parti. E sono il primo ad augurarmi che il colloquio, lungi dall'essere un fatto episodico, possa concretarsi in una reciproca continua partecipazione, riproponendo oggi il tratto distintivo della felice stagione culturale che io, studente e giovanissimo assistente, sperimentavo intorno a me. Ricordo la vivacità delle settimane di studio spoletine degli anni 50, dove protagonisti erano ben spesso dei giuristi, penso a Leicht, a Vaccari, a Bognetti, a Mohr, a Vismara e a parecchi altri. Ma ricordo soprattutto le testimonianze che, con la sua indiscussa autorevolezza culturale, mi dava, ormai tanti anni addietro, Ernesto Sestan, personaggio carissimo a molti dei presenti. Di Sestan udì, laureando in giurisprudenza, la Prolusione Fiorentina dell'autunno 1954, dove una parte consistente era dedicata ai contributi di storici del diritto, non risparmiando critiche anche severe, ma ritenendo non eludibile il confronto. Con Sestan ebbi poi il dono di una inattesa familiarità, vicenda personale tra le più gratificanti della mia vita accademica. Ci trovammo infatti insieme nei primi anni 70 nel senato accademico dell'Ateneo Fiorentino, lui preside di lettere e io di giurisprudenza. Era memoro ancora le lunghe conversazioni di quando, terminate le faticose e noiose sessioni senatoriali, io lo accompagnavo fino alla sua casa di via Benedetto Varchi ed egli non mancava mai di confermarmi la profonda persuasione che per gli occhi del medievista, da qualsivoglia osservatorio si guardasse la civiltà medievale, gli occhiali giuridici rappresentassero lo strumento essenziale per un'adeguata messa a fuoco. Nei decenni passati il colloquio si è attenuato e le responsabilità sono equamente ripartibili. Gli storici del diritto, che ancora quando io iniziavo il mio assistentato fiorentino, erano esclusivamente dei medievisti e che anzi avevano da poco lasciato i prediletti cartari alto medievali per le robuste espressioni scientifiche del tardo medioevo sapienzale, si sarebbero di poi sempre più dedicati con l'ena a studiare il diritto moderno e contemporaneo, colmando uno scandaloso vuoto storiografico. Gli storici della globalità medievale, non più attratti dalla superficie degli accadimenti più vistosi dietro il benefico influsso della grande scuola degli annal, avrebbero cominciato a ricercare nelle radici della società, ma avrebbero anche ereditato dagli analistes la sordità per la dimensione giuridica, ritenuta a torto un forzoso artificio per le strutturali forze socio-economiche. Con questa doverosa precisazione, quando io nel 1985 riteni culturalmente indilazionabile un incontro scientifico su storia sociale e dimensione giuridica e, con opportuna provocazione, lo progettai come colloquio e confronto fra storici del diritto e analiste, colui che rappresentava nella sisa fiorentina la grande scuola parigina, e cioè Jacques Le Goff, non mancò di dimostrare superate le vecchie diffidenze brodeliane, del resto già da tempo smentite dalla voce altissima di Mark Bloch, di ritenere rilevanti le indagini storico-giuridiche, purché non seppellite in formalismi e schematismi, invitando gli storici del diritto a non tradire la loro consegna epistemologica e ad affermare la loro specificità di giuristi. Per la comprensione della civiltà giuridica medievale. L'esigenza di deporre un ideario e un vocabolario fuorvianti. Nei colloqui itineranti fra Maes e Stan, a cui accennavo più sopra, il vecchio maestro concordava su un punto, senza riserve, col suo giovane collega. Essere il Medioevo una civiltà intimamente giuridica, che trovava la propria secreta ossatura in un ordine giuridico e che in esso reperiva anche il proprio salvataggio storico. Ma di che diritto si trattava? Domanda inusuale, ma più che legittima, giacché ogni epoca lo ha vissuto a suo modo, disegnandola in conformità dei valori in essa circolanti. Io credo fermamente che la storia giuridica sia una catena di parecchie esperienze giuridiche, intendendo con questo, ultimo sintagma, una guisa peculiare di vivere, sentire, concepire il diritto, e precisando altresì che si tratta di catena segnata più da discontinuità che da continuità. Ne va dubbio che il Medioevo incarni una esperienza giuridica tipicissima, con tratti che la distinguono, e per molti aspetti la oppongono, a quella moderna. E affiora qui un grosso problema di indole epistemologica, uno dei tanti che rendono esaltante ma arduo il mestiere dello storico del diritto. Fino a ieri come si è guardato alla giuridicità medievale? Certamente con occhi moderni, dal momento che lo storico non può e non deve rinnegare la consapevolezza proveniente dalla sua attualità. Ma quegli occhi moderni si sono arrestati a una doverosa e rispettosa comparazione interiore fra civiltà diverse, fondate su valori diversi? Sono stati portatori di rispetto e di disponibilità verso la cifra medievale del diritto e, con parole più stringenti, hanno tentato di giungere al miracolo della comprensione, quel miracolo che permette proprio allo storico di risuscitare i morti? L'alata impostazione metodologica serve a noi soltanto quale necessaria premessa per poter calare e accogliere le radicazioni prime di quel sistema giuridico medievale che opportunatamente gli organizzatori hanno voluto campeggiante nel titolo della relazione. La mia convinzione, ripetuta insistentemente in parecchi contributi, è che sia fino a ieri guardato al medioevo giuridico senza la totale disponibilità ad ascoltare il suo autentico messaggio, ma anzi cedendo alla facile tentazione di operare senza un rigoroso vaglio epistemologico, tra pianti di schemi interpretativi estranei e pertanto forzosi e pertanto inidonei a raggiungere il risultato della comprensione. E forse trova qui un'ulteriore spiegazione la diffidenza di certa medievistica verso le intelaiature giuridiche, sembrando queste dei veri letti di procuste più che delle vere vesti ordinanti. Spieghiamoci meglio, non è senza giustificazione l'identificazione del diritto in un artificio e anche in una costruzione per il libero espandersi delle forze storiche, se si proiettano sulla civiltà medievale, creatura che la modernità sia costruita a sua misura, che l'evo precedente ignorava e che alterano pertanto un reale meccanismo di comprensione. Ciò tanto più si avverte quando le invenzioni moderne non soltanto sono ignorate ma risultano intimamente repugnanti alla visione medievale del diritto. Dando un volto più definito a queste generiche osservazioni, il riferimento è soprattutto all'uso disinvolto che si fa di due termini e nozioni di straordinaria pesantezza contenutistica, stato e sovranità. Uso disinvolto ma è anche doveroso aggiungere diffusissimo. Non faccio una elencazione perché dovrebbe essere troppo lunga. Mi limito a far qui il nome del maestro che abbiamo all'inizio menzionato con profondo rispetto è Ernesto Sestan, il quale non mancò di intitolare una grossa e assai impegnativa opera, stato e nazione, nell'alto medioevo. Il problema non è ovviamente terminologico ma concettuale e investe frontalmente la nozione di potere supremo, potere politico. Il rapporto potere società, il rapporto potere diritto, la posizione e il ruolo di quest'ultimo all'interno della globalità sociale. Orbene, noi potremmo continuare tranquillamente a usare il termine nozione stato nel generico significato di entità politica munita di effettività protestativa in un determinato territorio, ma ci inoltreremo in tal modo su un sentiero malfido, giacché quel termine nozione si è caricato durante l'itinerario della modernità di ulteriori e più pesanti contenuti, trasfigurandosi dal supremo potere effettivo in una precisa psicologia del potere, intensa e violenta, con la vocazione totalizzante a controllare tutto quanto, che a questa psicologia omnicomprensiva consegue la realizzazione della sottostante perfetta unità politica e giuridica, perché il grande burattinaio, che pretende di avere in mano tutti i fili e tenderli e manovrarli a suo piacimento, non tollera nel suo raggio d'azione poteri alternativi o comunque zone incontrollate. Infatti, lo stato moderno si propone come entità assolutamente compatta, cui ripugna ogni articolazione complessa e in cui la società è fatta di individui tutti uguali, tutti rigorosamente soli nella loro individualità, senza intermediazioni nel loro immediato ed esclusivo confronto con l'unica ed esclusiva potestà suprema e quindi pienamente controllabili. Lo spazio dello stato è, per così dire, uno spazio piatto, necessariamente non accidentato, dove il potere politico può proiettarsi senza trovare ingombri. Quanto ora si è detto è trapiantabile nella civiltà socio-politico medievale? Sì, ma con un costo troppo esoso di equivoci e di fraintendimenti che arrivano a distorcere la nostra comprensione storiografica. Ma dirò di più, non è trapiantabile impunemente nemmeno in una società moderna di antico regime. Due anni fa, dovendomi occupare da giurista per una lezione conferenza rivolta a un pubblico non specialistico del trapasso fra società di antico regime e società rivoluzionaria e post-rivoluzionaria, io credetti di intitolarla Dalla società di società alla insularità dello stato, appropriandomi di una felice espressione che assolutamente non era mia, ma di Jean-Étienne Marie Portali. Poiché io parlo oggi a storici e storici medievisti, preciserò che Portali è uno dei giure consulti protagonisti della grande codificazione napoleonica, ossia della riduzione del multiforme diritto francese in un'unica legge generale, il quale Portali, compiacendosi della pretesa conquista, la avvalorava puntualizzando che essa non sarebbe stata possibile prima del 1789, giacché fino ad allora il regno di Francia era stato soltanto un société des sociétés, che era invece possibile nel 1804, data del primo codice, il Code Civil, in seguito al radicale rinnovamento politico e giuridico operato dalla rivoluzione. La diagnosi di Portali era straordinariamente puntuale sotto il profilo storico giuridico. Fino all'89 si era trascinato sempre più faticosamente e sempre più attenuandosi un modello di entità politica quale realtà complessa e plurale, che discendeva direttamente dalla grande fucina medievale, una realtà divenuta unitaria e compatta nella ferrea strettoia, giacobina prima, napoleonica poi, che esigeva il sociale interamente controllato dal politico. Torniamo dunque al dubbio iniziale e alla iniziale domanda. Possiamo trapiantare la nozione di Stato nella civiltà medievale, che è al massimo grado società di società, però con il rischio di gravi fraintendimenti, giacché è rischioso guardare al Medioevo con occhi che non riescono a deporre degli occhiali messi a fuoco sulla modernità. L'immagine non ne può che risultare deformata. La proposta liberatoria è di sbarazzarsi di uno schema ordinante che, invece di avere una funzione interpretativa, si rivela un vero letto di costruzione con la ineliminabile evocazione di un controllo della globalità sociale completamente estraneo alla civiltà giuridica medievale. La proposta liberatoria diventa, pertanto, una sorta di lavacro interiore per lo storico del diritto, un lavacro che gli si impone come elementare regola di correttezza metodologica. I suoi occhi inevitabilmente moderni gli serviranno proprio per instaurare un meccanismo comparativo e per far esaltare la tipicità del tempo storico medievale. Ovviamente, quanto si è detto per Stato, vale anche per sovranità, la cui accezione moderna post-bodiniana di potestà indipendente e assoluta è strettamente legata alla visione politica moderna e nulla a che vedere con la sovranità feudale indicante soltanto una superiorità all'interno di una scala gerarchica. Il diritto medievale come ordine oggettivo alle radici della società Dicevamo più sopra che il vero nodo da sciogliere concerne il rapporto fra potere politico e diritto e la concezione che la coscienza collettiva medievale ebbe di potere politico e di diritto. A nostro avviso, il divario che separa Medioevo e Modernità è fondamentale e attiene al diverso grado di intensità di quel potere che, se lo volle compiutissimo la Modernità, lo sentì e lo applicò incompiuto il Medioevo. Compiutezza significa vocazione totalizzante, esigenza di controllare ogni manifestazione sociale, esigenza di arrivare a quel risultato di uniformità che solo può garantire la capillare espansione del potere. La maturità moderna che trova il suo campione Napoleone I, grande sovrano, grande condottiero, ma forse prima di tutto grande legislatore, afferma la sostanziale creazione del diritto da parte del principe, anche se camuffata dalla sua funzione formale di lettore autorevole della natura delle cose. Ed è perciò che il diritto è inchiodato in leggi, cioè in espressioni di una volontà sovrana, a cominciare dalla legge madre, e cioè dal codice, una fonte tutta moderna, proprio per la sua vocazione alla omnicomprensività e alla autosufficienza. Tutto l'opposto nella civiltà medievale, dove la naturale incompiutezza del potere politico impedisce di sorprendere nel diritto una creazione di questo. Ed è, a nostro avviso, discutibilissimo che un recente corso di un collega spagnolo, Aquilino Iglesia, sia stato intitolato La creazione del derecho, impostandosi su una visione antitetica a quella qui sostenuta. Discutibilissimo è in realtà un eufemismo di cortesia verso uno studioso rispettabile, giacché nella civiltà che ci interessa il diritto è assai poco nelle mani del principe, il quale se ne occupa unicamente per quei settori connessi all'esercizio del potere supremo ed ha solo assai parzialmente un carattere legislativo, restando la prevalenza delle estrensicazioni giuridiche affidate agli usi, agli usi immemorabili, che trovano una adeguata definizione tecnica da parte di giudici, di notai, di doctores, ossia scienziati e maestri. Il principe medievale potrà essere fornito della massima effettività di potere, potrà anche arrivare a una latitudine degenerante in tirannia, ma gli mancherà sempre quella psicologia che porta il sovrano moderno a voler disciplinare tutto il sociale e, conseguentemente, anche il giuridico. Se agli occhi di Porta Lì il corte civil non sarebbe stato realizzabile e nemmeno pensabile prima dell'89, perché la Francia era un aggregato plurale e composito ed estremamente frammentato, si deve però integrare una siffatta eppure esattissima di agnosi, dichiarando che il re non avrebbe mai osato ingerirsi nella vita privata dei francesi, consegnata al materno disciplinamento di consuetudini secolari. Se Napoleone, principe modernissimo, è innanzitutto legislatore, il principe medievale è innanzitutto giudice, giudice supremo del proprio popolo e, anche se si dedica a produrre leggi, non percepisce in questa produzione il senso e il segno della sua supremazia. L'essenza del suo potere si incarna in una iurisdizio che è centramente sintesi di diverse potestà, ma dove spicca una tipicizzante dimensione giudiziale. Il diritto, infatti, c'è prima del potere e, prescindendo da esso, è nelle radici più intime della società. Se non è troppo stonato sulla mia bocca di storico un vocabolo di impronta filosofica, credo che si colga nel vero affermando la sua onticità e intendendo con ciò semplicemente sottolineare il suo carattere di dimensione profonda della società in essa compenetrata che dal basso un pullulare di usi fa emergere con fedeltà alla superficie costituendo in tal modo il salvataggio storico della indisciplinata, rissosa e inquieta quotidianità sociale e politica. Insomma, come ho già avuto modo di documentare distesamente, nella civiltà medievale il diritto è primariamente concepito come un ordine, un ordo, una sorta di sostrato riposto che fertilizza e nutre latente ma indispensabile la superficie. L'idea di ordine si confa prettamente alla giuridicità medievale e perfettamente la rispecchia giacché all'ordo ripugnano da un lato la compattezza e dall'altro la frammentarietà giacché l'ordo implica sì sempre una complessità ma è condotta armonicamente ad una unità giacché l'ordo non è mai una somma slegata di tante entità insulari ma un reticolato di rapporti un tessuto relazionale dove contano assai più le connessioni colleganti che non i singoli punti collegati vincolare indissolubilmente il diritto medievale all'idea dell'ordine vale a separarlo troncalmente dalla giuridicità moderna se questa è l'ombra compatta dello stato uniforme e unitaria ma unità compatta quello è invece lo specchio della società e la esprime riproducendo e rispettando la sua complessità se questa è la voce monodica di un apparato centralizzante di potere quella è la voce corale di una pluralità diversificata anche se collegata ci si è consentito di invocare qui due testi di San Tommaso corifero di una cultura autenticamente medievale che segnalano con mordente efficacia le conclusioni precisate più sopra la semplicità cioè la società ridotta a struttura semplicissima la più semplice possibile fa opposizione con una società valorizzata invece nella sua complessità ossia nelle sue distinzioni e sfaccettature anche se di complessità ordinata si tratta la complessità dell'ordine giuridico medievale un universo di autonomia le puntualizzazioni or rassegnate ci consentono di avvicinarci alla non facile cifra dell'esperienza giuridica medievale e alla sua piena comprensione riprendiamo il fulcro di quanto si è detto un universo quello giuridico complesso e composito ma sicuramente non un arcipelago di individualità separate e indipendenti abbiamo volutamente adoperato più sopra il termine reticolato perché nella rete ciò che contano sono i fili unitivi e l'universo giuridico medievale ignaro di quei poteri politici compiuti che provocano sempre rotture e isolamenti ci appare come un intreccio di relazioni che nessun potere è in grado di recidere e da cui invece ogni potere resta in qualche modo vincolato è l'autonomia la nozione centrale non la sovranità in senso moderno che è ancora un futuribile il non giurista giudicherà sottigliezza sofistica questa scelta terminologica ma non è così nel linguaggio e nell'ideario giuridici autonomia è concetto contrassegnato da una intrinseca relatività un ente autonomo è sempre una potestà limitata al centro di un tessuto di relazioni da cui derivano vantaggi e condizionamenti è sempre capo di una relatio ad che lungi dall'isolalarlo in una completa indipendenza lo fa indipendente e dipendente allo stesso tempo a seconda degli altri enti a cui si rapporta protagonista è l'ordo una forza a cui nulla sfugge organizzazione suprema della intera società dominata da una profonda diffidenza per ogni individualità e sorretta da una tensione a inglobare ogni individualità in tessuti relazionali cioè comunitari valevoli a neutralizzare la carica eversiva di cui l'individualità è portatrice micro tessuti e macro tessuti in un crescendo che dalla famiglia sale agli aggregati soprafamiliari alle corporazioni professionali assistenziali religiose alle comunità politiche tutti inglobati all'interno della santa chiesa e del sacro impero la società rispettata nella sua complessità si traduce a livello giuridico in un universo di autonomie e questo spiega l'esasperato pluralismo giuridico spiega nel principe la complicata psicologia che non lo fa immedesimare nel produttore del diritto la sua timidità la sua relativa fasì giuridica come è stato icasticamente scritto spiega perché il diritto medievale sia essenzialmente un diritto consuetudinario cioè incontrollato come dicevamo più sopra nella sua genesi dal basso sotto questo profilo genetico che ci riporta il cuore di un ordinamento giuridico sia la grossolana officina alto medievale sia il raffinato laboratorio sapienziale del secondo medioevo operano una medesima scelta il diritto nasce nei fatti della vita quotidiana e molti di questi fatti soprattutto grazie alla loro durata nel tempo acquisiscono di per sé una carica normativa senza che sia necessario l'intervento di un pubblico potere a dare autorità e a garantirne l'obbedienza l'osservanza da parte della comunità c'è ma è un moto spontaneo che si origina dal rispetto per il ripetersi durevole dei fatti per la categoricità che a quei fatti procura la lunga durata saremo noi moderni a relegare i fatti nell'esilio dell'irrilevanza giuridica affidando allo Stato il potere monopolistico di filtrare e controllare e di concedere il crisma della giuridicità unicamente in corrispondenza al progetto statuale e ai suoi modelli il diritto medievale esprime la globalità ma anche la complessità della società e la esprime per il tramite degli usi nella sconfinatezza dei suoi particolarismi in un pluralismo che tende a valorizzare le microentità dal momento che le germinazioni consuetudinarie intrise di fattualità nascono nel particolare lo affermano e lo garantiscono questo brulichio di fatti consuetudinari esige una tradizione tecnico-giuridica una definizione e un disciplinamento e saranno i giuristi non il potere politico a fornirli uomini di prassi nella officina alto medievale pratici ma anche maestri scienziati nella maturità del tardo medioevo le due corpose novità dell'esperienza giuridica medievale il diritto agrario e il diritto commerciale saranno un loro frutto cospicuo novità perché il diritto romano magnifico costruttore di un diritto civile astratto fondato su di un civis unitario identificato soltanto nella sua libertà e non immiserito dall'acid indole economica ha ignorato ciò si è detto sonoramente e fermamente con buona pace di romanisti troppo zelanti e troppo partigiani un diritto agrario come insieme di regole e istituti volti alla maggiore e migliore produzione agraria nonché un diritto commerciale come insieme di regole e istituti vantaggiosi al mercante professionista nei suoi traffici europei i contratti agrari invenzioni provvide di un alto medioevo fondamentalmente agrario sono creature consuetudinarie cui la prassi notarile dà un volto tecnico società commerciali titoli di credito assicurazioni fallimento strumenti insostituibili per quel protagonista dei secoli dodicesimo e quattordicesimo che è il mercante sono creature consuetudinarie nate nel vivo delle piazze mercantili e soltanto successivamente ridotte in schemi tecnici da notari giudici apparati statuari e infine da scienziati onticità dell'ordine giuridico dicevamo poco sopra il diritto alle radici più riposte della società chiamato a sorreggerla e a soccorrerla nel suo divenire un diritto da leggersi nella sua natura cosmica e sociale e si capisce perché San Tommaso definisce la lex quale ordinatio rationis dove volutamente viene spunta ogni venatura protestativa per ricondurre l'atto normativo in un atto razionale cioè conoscitivo e atto ordinante armonizzatore ma non coartatore della complessa realtà sociale un abisso separa queste fondazioni giuridiche dall'atteggiamento che verso il diritto avrà la modernità il primo compiuto sistematore della nuova visione dei rapporti fra potere e diritto Jean Baudin si guarderà bene nella Francia di fine 500 dal riprendere la lezione di Tommaso ritenendo inidonea per il nuovo principe una sua manifestazione la legge mortificata nella veste stretta di un atto di conoscenza e punterà sulla volontà di più sul piacere offrendo a un principe ormai veramente sovrano uno strumento insindacabile una puissance absolue e se il vecchio principe medievale si appagava della sua iurisdizio e si gloriava di identificarsi con un principe ecus il nuovo sovrano cioè sovrano di un appurato di potere tranquillamente qualificabile come Stato vorrà sempre più farsi creatore del diritto e quindi legislatore tenendo a erodere progressivamente l'ancora resistente tessuto consuetudinario e ad espandere lo spazio disciplinato dai suoi atti legislativi la civiltà giuridica comunale ius comune e iura propria nella rete delle autonomie tutto quanto sin qui precisato e tratteggiante la generale ideologia giuridica della civiltà medievale si presuppone per una corretta comprensione di quell'aspetto significativo del maturo medioevo che fu la civiltà comunale distesa nei secoli che vanno dal dodicesimo al quindicesimo con uno spazio privilegiato nell'Italia centro-settentrionale quale terreno più libero da ipoteche feudali e da strutture politiche ingombranti guai a non presupporre l'assenza dello Stato guai a non percepire l'universo politico-giuridico come comunità di comunità ciascuna delle quali legata alle altre da relazioni di autonomia ciascuna indubbiamente autonoma ma altrettanto indubbiamente né indipendente né sovrana in un sifatto contesto i comuni di cui qui è discorso ci si propongono per l'appunto come entità politicamente e giuridicamente autonome dal nostro angolo visuale quello del diritto si esalta il carattere di esperienze giuridiche all'insegna dell'autonomia come è apertamente segnalato dall'assetto delle fonti per fonti i giuristi intendono le forme con le quali il diritto concretamente si manifesta in una determinata struttura socio-politica forme che però attingono nel profondo di quella struttura e rivelano pertanto scelte fondamentali rispondendo alla domanda quale sia l'assetto delle fonti nella civiltà comunale si viene allo stesso tempo a cogliere la cifra essenziale del suo ordine giuridico non sempre lo storico del diritto è arrivato ad essa anzi la fraintesa perché è troppo plagiato da visioni moderne che ha preteso di trapiantare indebitamente in un corpo che non le sopportava un esempio mi è vicino e familiare e riguarda il mio patrono accademico Ugo Nicolini il quale ha creduto di poter leggere la civiltà comunale con i suoi schemi moderni senza quell'avacro intellettuale di cui si è parlato all'inizio in un'ampia documentatissima ricerca l'ha identificata come civiltà legalitaria cioè basata sul principio di legalità al pari del moderno stato di diritto e per quel che ci interessa a noi qui ha identificato il suo assetto delle fonti come rigorosamente gerarchico dietro sua iniziativa e sotto la sua guida parecchi discepoli sono stati indirizzati a studiare la gerarchia delle fonti negli statuti comunali di territorio dell'Italia centrosettentronale Umberto Saltarelli si occupò di quelli emiliani e romagnoli Franca Sin Atti d'Amico di Milano Lamberto Pansoli di Venezia Roberto Celli di certe aree toscane Alberto Liva di certe aree lombarde il difetto di queste accurate indagini era uno solo avere assunto il principio di gerarchia delle fonti a categoria storiograficamente interpretativa quando infatti si parla di gerarchia delle fonti cioè di un sistema delle fonti rigidamente scandito in un apparato gerarchico con al sommo la legge prodotta dal potere politico locale con altre fonti collocate in gradini inferiori e completamente devitalizzate in un'assoluta obbedienza si parla di una invenzione tutta moderna espressione dell'esigenza di controllare l'intera dimensione giuridica espressione di un sistema politico giuridico ormai ridotto a una pluralità di stati la gerarchia delle fonti presuppone uno stato cioè un'entità politicamente giuridicamente unitaria e compatta che trova nell'espediente gerarchico lo strumento adeguato a imporre e salvaguardare quell'unità e quella compattezza gerarchia delle fonti significa infatti legalismo ossia identificazione del diritto in leggi in voci autorevoli del titolare della sovranità collocato al vertice della scala gerarchica gerarchia delle fonti significa perfetta identità fra ordine politico e ordine giuridico con un diritto ridotto a specchio dello stato o bene se tutto quello che abbiamo detto nei numeri precedenti è storicamente veridico allora risulta chiaro l'anacronismo della nozione di gerarchia delle fonti al riguardo della civiltà medievale e in specie della civiltà comunale Umberto Santarelli uno dei discepoli di Nicolini più sopra ricordati divenuto uno dei maestri della storiografia giuridica italiana ha avvertito presto un disagio intellettuale verso le sue giovanili ricerche sugli statuti emiliani e romagnoli e quando gli è capitato di parlare della normativa statuaria in seno a un'assise scientifica internazionale dando un esempio di raro e rimarchevole diprobità culturale non ha mancato di confessare pubblicamente il suo disagio verso quelle che da ragazzi malamente definimmo le gerarchie delle fonti che si leggono negli statuti ma Santarelli in esordio di una relazione rispecchiante la perfetta maturità culturale dell'autore aveva detto di più motivando il suo atteggiamento autocritico e accennando le difficoltà del proprio itinerario c'era da finire di liberarsi di certi giovanili errori che avevano riguardato l'utilizzazione un po' disinvolta di strumenti concettuali che alla fine potevano rivelarsi fuorvianti tra i quali una idea di gerarchia delle fonti di diritto prelevata troppo di peso dai moderni sistemi codificati frasi da sottoscrivere senza una sola esitazione non gerarchia delle fonti che fa capo a una coincidenza piena fra ordinamento statale e ordinamento giuridico che è pensabile solo all'interno di un ordinamento giuridico manovrato autoritariamente dall'alto ma piuttosto covigenza di fonti appartenenti a ordinamenti giuridici diversi poiché so di parlare a un pubblico formato in grande prevalenza da non giuristi credo che sia opportuno aggiungere alcune precisazioni chiarificatrici è recente la liberazione del diritto dall'abbraccio stringente e costringente dello Stato uno Stato che il potere politico realizzava ma che la stessa scienza giuridica teorizzava e teorizzando avallava sul piano scientifico fu un grande giurista italiano Santi Romano a dare uno scrollo definitivo nel 1918 con la pubblicazione di un libretto l'ordinamento giuridico tenue di pagine ma non tenue di contenuti provocatori il messaggio centrale di quelle aure e pagine può essere così condensato il diritto è emanazione della società prima ancora dello Stato perché ogni coagulazione sociale può produrre diritto a condizione che in essa si attui un fenomeno di auto-organizzazione circoli la coscienza della sua validità e conseguentemente lo si osservi al monismo moderno romano contrapponeva una visione pluralistica ma sarà in questa sede interessante notare che il discorso teorico cioè di pura teoria giuridica veniva dall'autore rafforzato con esempi medievali guardando all'indietro al di là della modernità il giurista individuava nella civiltà medievale un'esperienza dove il diritto aveva vissuto un'articolazione squisitamente pluralistica ed è così senza ipoteche statuali il diritto poteva liberamente manifestarsi e manifestare le varie dimensioni di quella realtà plurale che è la società la ricchezza e complessità della società diventava pluralità di ordinamenti giuridici chiamati a convivere in uno stesso territorio entro la proiezione di uno stesso soggetto politico il paesaggio giuridico che ne derivava era necessariamente complesso se la libera città produceva la sua normazione nella veste di statuti nello stesso territorio si potevano avere e si avevano altri aggregati quali i normali produttori di diritto i chierici che da secoli fruivano di un diritto proprio peculiare il diritto canonico la possente comunità dei mercanti portatrice di consuetudine e statuti autonomi ma anche reliquie del vecchio ceto feudale puntigliosamente osservante di consuetudini specialissime raccolte dalla metà del secolo XII nei cosiddetti libri feudorum e ancora ciascuno di questi ordinamenti non si limitava a produrre norme ma aveva anche fori e tribunali speciali taluni dei quali come quello ecclesiastico e quello mercantile avranno vita lunghissima anche per buona parte dell'età moderna accanto e insieme un diritto non collegato a uno spazio territoriale né a un corpo socialmente rilevante bensì uno sconfinato diritto di impronta sapienziale che sulla base di una universale piattaforma normativa romana e poi anche canonica una comunità scientifica di maestra elaborava di continuo con un'attività interpretativa formalmente ossequiosa degli autorevoli testi normativi romani e canonici ma sostanzialmente creativa di principi e di regole necessarie alla società medievale per un adeguato ordinamento è il grande tessuto dello ius comune diritto comune ai più di un titolo perché veniva a fondere in sé la dimensione romana e quella canonica perché è concretamente il diritto realizzatore della unità giuridica europea sul piano del rapporto tra fonti diverse il problema non si poneva tanto tra generica normativa comunale e diritti speciali eventi una loro specifica area di azione il che se non escludeva attenuava le ipotesi di conflitto confliggenti erano invece statuto cittadino e ius comune dal momento che quest'ultimo si presentava come un enorme serbatoio in cui tutto era previsto e disciplinato e per di più continuamente incrementato da una scienza consapevole di essere mediatrice fra testo legislativo e movimento e mutamento economico sociale il rapporto era presente nelle più agguerrite legislazioni statuarie prendiamone una di singolare ampiezza e complessità lo statuto fiorentino del 1415 che chiude la stagione aurea della produzione normativa nella grande città il riferimento appare chiarissimo il podestà è chiamato a giurare di jura redere secundum formam statutorum et reformationum comunis et popolo fiorentini et ipsis deficientibus ius comune observare la norma particolare lo ius proprio un fiorentino per integrare le sue lacune non invocava come in quasi tutti i codici moderni i rimedi della interpretazione estensiva ed analogica obbliganti l'applicatore a cercare a trovare la soluzione all'interno del sistema legislativo positivo ma faceva espresso richiamo ad altro ordinamento giuridico prodotto dalla comunità dei giuristi a un diritto scientifico a proiezione universale non si tratta di gerarchia delle fonti la quale presuppone un solo ordinamento che fa i conti con se stesso e che si pone come realtà insulare assolutamente indipendente delle altre isole politiche e giuridiche esistenti che può pertanto permettersi di fissare la gradazione gerarchica valida all'interno della propria insularità qui si tratta invece di più ordinamenti coesistenti e covigenti in uno stesso territorio e alla superbia orgogliosa dei legislatori moderni convinti della loro autosufficienza si sostituisce l'umiltà del legislatore statuario medievale che fissa nella redazione dello statuto le norme a suo avviso più rilevanti ed urgenti per la vita della comunità locale ma che ha anche l'umiltà di ammettere implicitamente la insufficienza del complesso normativo posto in essere e si richiama espressamente a un altro ordine giuridico che da lui non emana ma che circola per le strade della città di Firenze anche se non è prodotto dal potere politico cittadino altra volta io ho scritto con immagine grezzamente naturalistica che il cittadino di Firenze al pari di quello di ogni libera città comunale respirava non soltanto l'aria stagnante delle strade fiorentine ma altresì quella ivi trasportata da venti lontani un'area che non aveva certo bisogno di autorizzazioni comunali per circolare liberamente il rinnovamento metodologico provocato dalla scienza giuridica dalla riflessione di Santi Romano fa sì che il giurista non se ne sorprenda la liberazione e quindi lo scardinamento del diritto dall'ombra incombente dello Stato l'intuizione provvida di individuare nelle società e non in un apparato di potere il suo referente necessario provoca la conclusione liberante di una pluralità di ordinamenti giuridici coesistenti e covigenti nella città di Firenze nello stesso tempo e nello stesso luogo e non l'uno opposto all'altro e reciprocamente escludentisi ma compresenti e reciprocamente integrantisi con un gioco plastico di ampliazioni e restringimenti a seconda del vario sestarsi di particolare e universale intreccio di autonomia fra ordinamento universale e ordinamenti particolari fra ius comune e iura propria che l'assenza dello Stato e l'assenza di una sovranità peculiare dello Stato hanno provvidamente consentito ed è infatti una dimostrazione di queste asserzioni che la vita comuna le ci offre i giudici sono innanzitutto esperti di diritto comune e lo utilizzano largamente facendo tesoro dei suoi strumenti tecnici raffinati dei suoi concetti rigorosi del suo linguaggio preciso virtù che fanno spicco rispetto alle elementarità e anche grossolanità reperibili in genere nei testi statuari e i sapientes lasciano spesso il loro ruolo primario di maestri negli studi si sentono bene inseriti nelle città comunali ricoprono magistrature e sono talvolta chiamati a redigere i testi statuari e i sapientes circolano nei tribunali come consigliatores e non solo per dare pareri alle parti in causa ma accanto al giudice tanto che un sommo storico del diritto Franz Viacher come ben ricordava Santarelli nella penetratissima relazione sopra menzionata identificò l'esperienza giuridica del secondo medioevo come età di consigliatores e il consiglia dei dotti giuristi si rifacevano assai poco e solo quando non se ne poteva fare a meno alle norme statuarie largheggiando invece nel più spazioso e sua dente diritto scientifico universale ed è principio universalmente ricevuto e indiscusso che statutum interpretatur secundum ius comune insomma per concludere e chiudere l'esperienza giuridica della civiltà comunale ci offre un paesaggio giuridico complesso e plurale che si innerva in una costante dialettica fra universale e particolare fra ius comune e iroa propria non una dialettica di contrari bensì dialettica fra dei cerchi concentrici che elasticamente si comprimono e si dilatano assecondando le richieste del divenire storico un sistema giuridico unitario che prevede universale e particolare in costante armonizzazione e che è unitario proprio in grazia di questa previsione ius comune e iroa propria nella riflessione innovatrice di francesco calasso e qui in questo convegno che vuol dedicare una speciale attenzione alla storiografia medievistica è doveroso un accenno e un tributo a chi per primo tra gli storici del diritto medievale parlò di sistema del diritto comune e intuì al suo interno quella dialettica tra ius comune e iroa propria cui orora si accennava intendiamo riferirci a francesco calasso io credo fermamente che la storiografia giuridica abbia un grosso debito verso questo leccese allievo a roma di brandileone lungamente insegnante negli atenei di firenze e di roma scomparso prematuramente nel 1965 senza aver potuto portare a termine il suo innovativo programma culturale il debito verso calasso si fonda nel notevolissimo contributo da lui dato a liberare la storia e gli storici del diritto alla clima grezzamente positivistico imperante con pesantezza due erano le direttrici di studio fino a calasso l'indagare l'alto medioevo nella ricerca delle fondazioni remote delle origini della civiltà medievale restringere l'indagine a passi notarile e legislazione quasi fossero le uniche fonte storiche a darci con sicurezza e fedeltà il volto positivo di una certa esperienza l'età tardo medievale che ha al suo cuore il diritto sapienzale elaborato dalla dottrina di glossatore e commentatori che dà tutta la sua fiducia al sapiens nella sua duplice veste di illuminato e di illuminatore raccoglieva invece un'esigua attenzione dello ius comune si occupava soprattutto alcuni romanisti colti e intellettualmente curiosi fra i quali spiccava per quantità e qualità di apporti la personalità per tanti versi ammirevole di Biagio Brugi calasso che avverte assai la lezione metodologica dell'idealismo avverte immediatamente il peso delle strettoie positivistiche e fin dalla giovane prolusione catanese del 1933 dedicata al concetto di diritto comune avvia un'opera di rinnovazione a cominciare dal nuovo terreno storico prescelto per i suoi scavi i secoli XII e XV non si trattava di rifiutare con sufficienza i fertilissimi secoli alto medievali ma di avere un ampio sguardo comprensivo di una intera esperienza giuridica in tutti i momenti del suo divenire rimuovendo però con decisione i pregiudizi positivistici verso le fonti dottorinali del momento sapienziale anzi in Calasso è sempre stata viva la percezione della unitarietà del millennio medievale dopo la prima tappa della prolusione catanese si snoda un itinerario ininterrotto ma anche una sua progressiva presa di coscienza nel 1938 il corso fiorentino di lezioni su storia e sistema delle fonti del diritto comune nel 39 il saggio su il problema storico del diritto comune dove è già insegnamento sicuro che ius comune e ius proprium debbano essere concepiti come elementi di un unico sistema normativo nel 46 la prolusione romana su il diritto comune come fatto spirituale nel 48 la relazione congressuale su diritto volgare diritti romanzi diritto comune e infine il corso di lezioni sugli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale apparso in veste definitiva nel 1948 e che rappresenta la prodo maturo e anche il tentativo riuscito di composizione sintetica degli scavi precedenti a partire dal corso fiorentino del 38 appaiono nitidi il dialogo culturale fra calasso e santi romano e l'impossessamento degli strumenti teorici avanzati dalla gius pubblicistica fino a che nella sintesi del 48 sarà proprio un'intelaiatura romaniana a fornire intitolazione e ossatura del libro l'esperienza giuridica comuna l'era è vissuta da calasso come età di pluralismo giuridico come vita armonica di ordinamenti conviventi e convigenti a distanza di tanti anni dalla epifania calassiana emergono all'attuale coscienza storiografica i suoi limiti indubbi a cominciare da una concezione troppo rigida del cosiddetto sistema del diritto comune ma è ingeneroso da parte di alcuni recenti censori non riconoscere il provvidenziale carattere di rinnovazione anche metodologica che la presenza intellettuale di calasso ha significato nella cultura storico-giuridica italiana semmai in questa sede mi sembra doveroso segnalare una poria di fondo di cui calasso è portatore facendo fiorire un subconscio dove continuano a radicarsi persuasioni dello statalismo illuministico si parla infatti di pluralità di ordinamenti giuridici ma si continua anche a parlare disinvoltamente di stato e di sovranità continuando a pensare a un medioevo popolato di stati e si lega troppo giuridico e politico dimostrando che lo scrittore ha nella testa ben fisso il primato dello stricto senso politico si spiega così perché calasso che pure è l'originale valorizzatore dello ius comune sia dominato dall'assillo di ancorare la universale comunità dei giuristi a un potere politico a un'entità politica e la colleghi con enfasi parossistica all'imperium e faccia della ratio imperi la sua fondazione legittimante e rassicurante ma oimè il sacro impero è nei secoli del diritto comune classico vale a dire dai secoli dodicesimo al secolo quattordicesimo nulla più di un maestoso simbolo al contrario il vero lavacro per operare una piena comprensione dell'universo giuridico medievale e in particolare di quella sua espressione e filiazione che è la civiltà comunale consiste come sappiamo nell'acquisizione di un diritto senza stato di un diritto che almeno per quanto attiene alla vita quotidiana dei privati almeno per quanto non attiene alla sfera immediata del potere politico e del suo esercizio è assai più ordinamento che comando affioramento alla superficie di un ordine riposto della società che prescindendo da ogni potere politico le comunità più varie e diverse possono definire e consolidare esprimendo unicamente la complessità del sociale di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio